e dai caschi passiamo alle tute racing vi sto mostrando quella che sul catalogo è la Dainese Chialami il top di gamma per quanto riguarda le tute racing in pista c'è già Daniele pronto eccolo qua che ce la fa vedere vi presento il top di gamma della Dainese la Chialami una tuta totalmente canguro c'è un pellame meno spesso ma molto più elastico la tuta si presenta con delle micro farature in varie parti per renderla totalmente molto più traspirante porta questi elastici al cavallo invece prima era quando giravamo noi era molto più difficile così c'è una calzata perfetta la tuta con tutti degli elastici anche qua dietro c'è una gobetta aerodinamica con predisposizione di borraccia eventualmente anche vedi porta totalmente tutti elastici la tuta si presenta con protezioni in alluminio spalla spalla ginocchiera in più abbiamo una protezione in titanio sul gomito con saponette sia sul ginocchio slider e anche sul gomito totalmente estraibili e cambiabili la tuta viene data in dotazione c'è un primo kit di pulizia che prevede una crema e uno smacchiatore e più c'è il coprituta sempre denese all'interno invece porta all'interno porta una fodera totalmente estraibile e lavabile per la sudorazione che si può staccare totalmente e più porta una delle poche tute a portare una piccola taschina interna giusto per avere un modello sui pass della pista o altre cose allora invece accanto alla chiala mi sto vedendo che abbiamo preparato mario abbiamo un modello che si chiama racing 3 racing 3 pelle è uno dei modelli più venduti in assoluto perché oltre ad avere un design fantastico con le nuove protezioni i nuovi inserti elastici è disponibile in cinque colorazioni anche qui abbiamo ovviamente protezioni in alluminio alluminio sempre naturalmente protezioni anche interne sia quella esterna che vediamo sia all'interno della spalla e quindi una doppia protezione sempre la protezione gomitiera omologata in più porta la predisposizione per un futuro per un aggancio di un futuro pantalone per fare eventualmente una tuta divisibile e poi porta la predisposizione per un futuro paraschiena corredata anche in più abbiamo sempre le prese d'aria diciamo sul petto e lo sfiato d'aria posteriore insomma una giacca che sembra insomma casual ma comunque ha dei contenuti sportivi interessanti allora il modello racing 3 costa 480 euro da scontare daniele la chialiamo invece costa 1.850 sempre con degli forti sconti che effettuano al negozio naturalmente allora prima di salutarci una cosa dimenticavo una cosa le protezioni sono di livello 2 naturalmente è una cosa importante allora prima di salutarci una cosa che so che volevate importante che volevamo dire perché qui a via cilea soprattutto in questo periodo c'è sempre un po di traffico invece noi che ci siamo inventati ci siamo organizzati che appena uscite dalla tangenziale sulla vostra destra troverete un garage per ogni acquisto il garage offerto da noi insomma non è poco non è fondamentale invece ce lo calcoliamo i clienti per forza in una città come Napoli e c'è bisogno anche di dare questo tipo di servizio va bene ragazzi ci vediamo il prossimo appuntamento con altri contenuti va bene grazie sempre